Parliamo di One Piece. Come ho già detto su Instagram, anzi andate a seguirmi anche lì perché pubblico delle mini recensioni dopo l'uscita dalla sala o dopo la visione di una serie o un episodio in generale, come appunto ho detto nella mini recensione di One Piece su Instagram, questo è il mio primo approccio in assoluto con il prodotto One Piece. Non ho né letto i volumi né il manga e non ho visto neanche l'anime, eccetto qualche visione, qualche occhiata, qualche vignetta interessante, qualche tavola interessante, oppure a qualche episodio, per esempio ho un ricordo dal mio passato, anche traumatico a questo punto se me lo ricordo fino ad ora, una scena dell'anime, visto così di sfuggita su Italia 2, in cui un personaggio femminile negativo, non so se fosse una strega o una roba del genere, strappava dal petto infilando la mano il cuore di Yusup. Chi ha visto l'anime o comunque conosce One Piece, per favore mi scriva nei commenti che episodio era questo, comunque se ricordo effettivamente bene la faccenda, però per ricordarmelo appunto credo di essermi traumatizzato da piccolo, non lo so. Questo è stato forse l'unico approccio nel passato che ho avuto con One Piece, adesso invece il vero, unico, completo approccio è proprio la serie Netflix, che nonostante non conoscessi nulla, attendevo veramente tanto. Anche se effettivamente l'interesse è cambiato un po' con il tempo, perché dopo il primo trailer con una CGI terribile e qualche inquadratura che mi aveva ricordato un prodotto fan made, l'interesse non c'era così tanto. Poi invece, sentendone parlare anche bene da quelli che l'hanno visto in anteprima, prima di me, perché effettivamente gli otto episodi li ho visti in anteprima grazie a Netflix, così da poter pubblicare la recensione proprio adesso, che arrivano gli episodi sulla piattaforma, proprio in questo istante sono arrivati anche gli episodi su Netflix, ed ecco qui la recensione senza e con spoiler, comunque appunto l'interesse prima della visione effettiva c'era, lo sentivo. E anzi, ero abbastanza convinto a proiettarmi nel futuro dicendomi, vabbè, se questa serie mi piacerà magari mi approccerò anche all'anime, al manga, sono più propenso verso l'anime, però vediamo, non si sa mai, ma a una condizione naturalmente, doveva piacermi la serie Netflix. Questi otto episodi... mi sono piaciuti da impazzire. Sarà che appunto non sono un fan sfegatato di One Piece, non conosco la trama, non conosco nulla, non conosco magari qualche adattamento terribile che hanno fatto, che qualche sacrilegio, qualche orribile scelta fatta in questa serie Netflix, magari un personaggio che è nell'anime bianco e qua l'hanno trasformato in nero, anzi no, questo lo so, perché un personaggio c'è, che ha cambiato etnia, almeno uno, ma ne parliamo nella parte spoiler, perché potrebbe essere spoiler rivelare questo personaggio, perché appunto come me non conosce One Piece. Infatti questo video è anche per voi, che vorreste vedere la serie, non sapete se guardarla senza conoscere nulla non è una buona idea. È una buona idea, tranquilli, capirete tutto, e anzi vi affezionerete i personaggi in alcuni, con alcuni specialmente, almeno per quanto mi riguarda, perché vi presentano tutto da capo. Assolutamente è un adattamento ottimo. Certo, credo ci siano easter egg per i fan, ma capirete tutto comunque. Prima di iniziare, piccolissimo disclaimer, tranquilli, non è piccolissimo, quindi per favore non saltatelo, anche perché è importante. Vi chiedo se è possibile di supportare questo canale gratuitamente, senza spendere nulla, lasciando semplicemente un like qui sotto, così l'algoritmo di YouTube capirà anche, a modo suo, non so come funziona poi l'algoritmo, quale tipo di seguito ho, così da supportare appunto il mio lavoro in generale. Bene, adesso però andiamo avanti. Parliamo di One Piece, ovviamente, ripeto, ne parlerò senza spoiler inizialmente, poi una piccolissima parte spoiler finale, perché non voglio concentrarmi così tanto sui dettagli, come sempre, diciamo, dico solo qualcosina a livello spoiler sul finale dei video recensione. Primissima cosa, durante la visione degli episodi ho avuto modo di controllare qualche tavola, qualche pagina del manga e credo che alcuni eventi cronologicamente siano un po' scombinati. È tutto a posto, non è che ci si crea una confusione, ma credo che alcuni personaggi vengano presentati prima, alcuni background vengano presentati prima o dopo, a seconda dell'adattamento, ma nonostante credo che la storia sia comunque quella, invariata, alcuni eventi vengono un po' scambiati di posto. Dai trailer, appunto, si vedeva una CGI orribile, è proprio quello il motivo per cui io non avevo così tanto hype dopo il primissimo trailer. Poi non ho visto gli altri due trailer, sia perché il secondo uscito non volevo vederlo dopo aver visto il primo, e il terzo è uscito per me che registro oggi, questa sera, per voi che state guardando il video ieri sera, e vedere un trailer dopo aver visto gli otto episodi per intero non lo vedevo interessante. Magari la CGI negli altri due trailer è fatta bene, però che ci voleva realizzare il primissimo trailer come è realizzata la serie? Certo, alcuni poteri sono ancora ridicoli secondo me, ma proprio perché altrimenti ci sarebbe stato uno sbalzo di atmosfera, da quella di One Piece che tutti conoscono a quella della serie live action, sarebbe cambiato molto, magari non inserendo in questo modo il potere gum di Rufy, o i diversi poteri dei personaggi, non vado oltre, perché alcuni vengono presentati come colpi di scena per chi appunto non conosce la serie. Come ho detto all'inizio del video, ai personaggi ci si affeziona abbastanza bene, in otto episodi comunque che volano, davvero nonostante siano più o meno tutti sull'ora di durata, gli episodi volano, ed empatizzi anche con i membri della ciurma, sia per i loro background interessanti che non vengono presentati subito, c'è un po' lo stile alla Lost, diciamo, ti presentano questi personaggi, li buttano tutti lì assieme, ma li caratterizzano pian piano, con anche in alcuni casi appunto alla Lost, episodi dedicati proprio interamente alla storia pregressa di quel personaggio. E ciò dà la possibilità appunto allo spettatore di entrare in empatia totale con la storia, con il personaggio stesso, con le motivazioni e con la vita che gli stiamo vedendo vivere. Adoro i titoli di One Piece che cambiano a seconda del personaggio, comunque della storia che ci verrà presentata nell'episodio. Personalmente i due personaggi che ho apprezzato di più della ciurma sono Sanji e Zoro, entrambi non solo per la costruzione della loro storia, ma anche per la loro presenza scenica. Se non sbaglio l'attore che interpreta Sanji, oltre a somigliare incredibilmente a un Eminem con qualche fattezza modificata, comunque un Eminem, è anche uno dei registi che ha lavorato alla serie assieme all'ammiraglio della Marina. Entrambi hanno diretto qualche episodio della serie, non so quanti, non so quali. Comunque è interessante come fatto, ma ripeto appunto sia Sanji che Zoro sono i personaggi che mi sono piaciuti di più. Non che gli altri mi abbiano fatto schifo, anzi Nami è al terzo posto, mentre Rufi e Usopp sono quelli che credo meno interessanti. Non che non mi siano piaciuti, però non lo so. Rufi è un po' troppo esagerato sotto diversi punti di vista, ma la sua storia è interessante. Sicuramente l'attore è anche bravo. Ho visto la serie doppiata, ma mi sono concentrato anche in alcune scene cambiando appunto in inglese e per vedere appunto le interpretazioni di alcuni degli attori, magari in una scena vanno bene, quindi ho visto la scena recitata bene, poi nella scena successiva fanno veramente cagare, ma non credo, non credo ci sia questo sbalzo di interpretazione, di livello interpretativo. Quindi generalmente la recitazione mi sembra buona. Però appunto Rufi è un po' troppo sopra le righe, sia per quello che dice sia per quello che fa, non solo perché si allunga in realtà, perché anzi quella è una cosa che hanno contestualizzato meglio, di come mi aspettavo dal primissimo trailer. Non solo perché è realizzata meglio in CGI, proprio è contestualizzata meglio, non vado oltre. Mentre Usopp sì, ha un episodio interessante, anche un background interessante, anche se tra tutti forse quello più standard, forse non saprei come dire, anche se pure Zoro ha un passato abbastanza standard, però ho preferito quello di quest'ultimo invece di Usopp. Però ragazzi, comunque tutti i personaggi mi sono piaciuti, anche i villain che sono stereotipati al massimo, sono esagerati anche loro, sono stravaganti sotto ogni punto di vista, ma si capisce anche il livello di importanza che questi villain hanno. La trama appunto è orizzontale, ma ci sono alcuni episodi verticali, vengono presentati diversi villain che vengono sconfitti, tra virgolette, alla fine di ogni episodio, per poi arrivare appunto al main villain che si capisce subito chi è, arrivati a un certo episodio. Parlo ovviamente per quelli che non conoscono One Piece, naturalmente chi ha visto l'animo o comunque ha letto il manga sa tutto di questa saga, di questa prima saga di One Piece, che finisce in un certo punto, preciso, si dice c'è comunque una chiusura, ci sono degli elementi che vanno oltre per una possibile seconda stagione, che secondo me arriverà, è che io non voglio spoilerarmi leggendo il manga o vedendo l'anime, e quindi mi fermerò al massimo solo a questa prima saga presentata nei diversi adattamenti, ma la storia di questa prima stagione si conclude qui, finisce, l'obiettivo c'è, non è l'obiettivo naturalmente principale, anche perché questo non è manco arrivato nel manga e nell'anime, arrivare a trovare il One Piece, ma l'obiettivo minore dei diversi personaggi è lì, soprattutto l'obiettivo e gli obiettivi di Rufy. Anche le scene che nel trailer, nel primissimo trailer, mi sembravano fan made, qui sono cambiate totalmente, le inquadrature sono sempre quelle, ma forse la fotografia è cambiata, ci sono montaggi diversi, sembra totalmente un'altra serie quella che ho visto nel primissimo trailer. E una cosa che non mi aspettavo sicuramente era trovare questo tipo di violenza in questo tipo di serie, non so adesso se anche l'anime o il manga, a questo punto credo di sì, fossero così tanto, o sono, perché sono ancora in sviluppo, sono così violenti, ma credo di sì. Non che questa cosa sia indice di superiorità o comunque di qualità in generale, ma mi è piaciuto vedere questo, non avere questi freni comunque nel sangue o negli spargimenti di sangue di budella, robe varie, o tagli vari, comunque abbastanza violenti in confronto a quello che mi sarei aspettato. Ogni tanto c'è qualche rottura della quarta parete, non eccessiva, non dà fastidio, anzi è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, infatti magari è una cosa che succede anche negli altri adattamenti, però compare il manifesto da ricercato che copre l'inquadratura con anche la taglia, quanti soldi vogliono per... quanti soldi danno per avere questo tipo di pirata, questo ricercato, e non solo compare appunto il manifesto davanti all'inquadratura, ma il personaggio che ci sta dietro lo prende, lo strappa, lo mangia, fa cose. Comunque un po' meta come cosa e ho apprezzato tantissimo queste scene. Forse è un po' vero qualche piccolo difetto perché, avendo molto meno tempo in confronto all'anima o il manga, l'amicizia tra i diversi personaggi arriva un po' troppo velocemente. Ci sono alcuni momenti in cui accadono delle cose importanti per la ciurma che si sta andando a formare e vedi alcuni legami che sono forse un po' troppo facili... un po' troppo legati per il poco tempo che hanno passato insieme questi personaggi. Ogni episodio comunque ha il suo cliffhanger interessante o meno, alcuni colpi di scene importantissimi sul finale mi sono piaciuti, le reazioni ad alcune scoperte un po' meno, per esempio, ma generalmente è un prodotto che, ripeto, vi consiglio tantissimo anche se non conoscete One Piece, come nel mio caso, del resto, magari adesso attaccherò tutto e inizierò dall'anime o comprerò qualche volume, quella per introdurmi nel mondo dei pirati. Anche se ne ho già parlato, il finale è davvero interessante, si vede che c'è l'interesse per andare avanti con una seconda, terza, quarta, quinta, sesta, infinite stagioni come appunto del resto gli altri prodotti e spero che raggiunga il successo che Netflix si aspetta per rinnovare la serie. Spero vivamente non succeda come Cowboy Bebop, che non ho visto né anime né manga né serie live action di Netflix, ma ero intenzionato a vederla, almeno quella di Netflix, per vedere un po' di cosa trattasse, e lo stesso giorno che avevo la voglia di vederla, arriva la notizia della cancellazione, quindi ho lasciato perdere. Non apprezzo poi così tanto iniziare una serie che non si concluderà mai. Ultima cosa, prima di passare alla piccola parte spoiler, le canzoni, la musica, la soundtrack, la colonna sonora, altri nomi posso dire per questi episodi, è interessantissima. Non so se alcuni temi siano presenti già nell'anime, ma credo ce ne siano alcuni di originali. Non mi sembra di aver sentito canzoni non originali, quindi c'è solo roba per One Piece della serie. Non mi sembra di aver trovato canzoni pop quella, ma ragazzi, se non avete visto ancora One Piece, non so, magari conoscete la storia e volete rimanere comunque per la recensione spoiler, non avendo comunque visto gli episodi Netflix, io vi sconsiglio anche la visione in questo caso, la visione di continuare il video appunto non della serie, ma se volete rimanere vostra responsabilità, magari spoiler o qualcosa che non so di diverso dalla serie anime, non venite a lamentarvi nei commenti perché io l'anime non l'ho visto, il manga, parlo di anime ma comunque inglobo tutto anche nel manga, vabbè vabbè, comunque gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. Primissima cosa, a me il personaggio di Buggy piace tantissimo, nonostante il cambio totale di carattere, più di che di carattere di presenza. All'inizio sembra un villain molto importante, molto cattivo, soprattutto molto incisivo nei personaggi, poi dopo che si scopre anche il suo potere puzzle di staccarsi in mille pezzi, che mi ha ricordato tantissimo T.D.K. di The Suicide Squad, ecco, la CGI per questo personaggio è un po', non lo so, ma poi soprattutto quando diventa una testa parlante, solo quella testa, il mio approccio nei confronti del personaggio è un po' cambiato, l'ho visto in modo diverso. Probabilmente sarà anche importante per la seconda stagione, visto che si vede anche nell'ultimo episodio, assieme alla tizia, scusate non ricordo il nome del personaggio, però la tizia che viene sconfitta all'inizio, Alvida, una cosa del genere, che è totalmente diversa dai fumetti, però vabbè, era ovvio, non potevano trovare una persona di quella conformità. Una cosa che sfortunatamente non ho detto nella parte no spoiler, me lo sono totalmente dimenticato, gli stili di combattimento, soprattutto quello di Zoro, bellissimo, mi è piaciuto molto, anche quello di Sanji, è proprio questo il motivo per cui ho apprezzato molto Sanji e Zoro, nonostante i background, i loro stili di combattimento. Le tre spade o i calci senza... con le mani in tasca in pratica, belli, belli, belli. E neanche troppo fumettosi, neanche troppo ridicoli a livello estremo, posso dire. Cosa che invece magari può succedere guardando Rufy, con le braccia, le gambe, la testa, la pancia, arriva pure a gonfiarsi per respingere una palla di cannone, ecco, lì magari un po' di ridicolaggine c'è, però ogni personaggio ha la sua utilità, ci sono stato un po' a capire quella di Usopp, non ero abbastanza concentrato nel capire che fosse l'ingegnere della ciurma, però appunto ogni personaggio ha il suo perché, è lì per un motivo. Sono curioso di scoprire quale sarà lì l'obiettivo di... comunque lì l'importanza di Chopper, perché non so assolutamente niente sul personaggio, conosco solo il fatto che è un cervo parlante, credo sia un cervo, non lo so, non so nemmeno questo, però una robetta che sarà sicuramente in CGI che parla. Poi credo che col passare degli anni abbiano aggiunto anche diversi altri membri alla ciurma, ce n'è uno tipo enorme, ma non so niente, questi non voglio sapere nulla perché voglio vedere pian piano cosa faranno, se andrà avanti la serie Netflix, spero di sì. Comunque tornando alla parte spoiler, abbiamo questo villain, questo main villain, che è Arlong, un pesce spada umanoide, quindi un uomo pesce viene chiamato così all'interno della serie, credo che sia morto sul finale, perché viene totalmente schiacciato dal suo stesso Mojo Dojo House di Ken. Interessante il rapporto tra Arlong e Nami con il suo doppio gioco, lui, lei era dalla parte del cattivo, ma allo stesso tempo no, quindi c'era una sorta di terzo gioco, non di triplo gioco, non di doppio gioco, vabbè, comunque è una cosa che si capisce, non è incasinata come nel modo in cui ho spiegato adesso. Non mi ha fatto impazzire così tanto la reazione di Rufy alla scoperta che Nami era una traditrice, però vabbè, lasciamo perdere. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto lo scontro tra Zoro e Maurizio Merluzzo, che non è un altro uomo pesce, però è il doppiatore di un personaggio di cui non ricordo il nome, per questo ho detto il doppiatore, che è molto più noto a me. Comunque quel d'Artagnan pirata che fa parte dei sette, questi pirati che hanno un accordo con la Marina, robe varie. Mi è piaciuto molto lo scontro con la morte di Zoro, che in realtà il cattivo, penso sia cattivo, anche se alla fine poi parla con Sainz, Sainz? Scusate ragazzino, mi sono un po' un problema per me. Non so effettivamente se quel moschettiere pirata sia cattivo, però comunque ha risparmiato Zoro, che infatti dopo si riprende in un episodio solo, mi pare. Sta solo per un episodio caricato sul banco. Lo stesso episodio in cui appunto Nami si scopre traditrice. Altro colpo di scena che mi è piaciuto effettivamente è la parentela tra Rufy e non so se è parentela di sangue, comunque il capitano, l'ammiraglio della Marina è il nonno di Rufy. Il rapporto che c'è anche sul finale nell'ultimo episodio, molto interessante, credo che, non lo so, non spoileratelo, non ditelo nei commenti per favore, ma credo che ci sia un rapporto di sangue, in questo caso comunque un rapporto di familiarità con Golden, comunque il tizio che ha nascosto il One Piece, tra lui e Rufy, e quindi anche l'ammiraglio, ma non ditemi niente, perché questo sarebbe spoiler nei miei confronti, perché magari si scoprirà avanti, si è già scoperto nell'anime o nel manga, o si scoprirà magari, perché magari non è ancora stato detto nemmeno in quei casi, ma non ditemi niente. Io ho questa teoria sul futuro di questi tre personaggi, due personaggi. Sono convinto che prima o poi l'ammiraglio muoia, ho apprezzato il fatto che effettivamente abbia accettato che suo nipote, sempre se nipote reale è, voglia fare il pirata a tutti i costi e lui gli lascia seguire il suo sogno. Fa sorridere il fatto che tutti guardino sul finale il manifesto da ricercato sorridendo, ridendo direttamente, compresi i villain, e poi sul finale mi pare non fosse di nuovo il nonno ammiraglio, ma una figura che si vede solo di spalle brucia questo manifesto con un sigaro. Non so chi è, non ditemelo anche in questo caso, perché sarebbe spoiler per me, perché appunto in caso dovessi recuperare anche l'anima e il manga mi fermerei comunque alla sconfitta di Arlong, non andrei avanti in quel caso, aspettando appunto la seconda stagione, che non voglio spoilerata. Ultime menzioni d'onore ad alcuni personaggi, per esempio il padre, diciamo, chiamiamolo così, di Sanji, quel tizio con le treccine ai baffi. Le scene nel passato con Sanji e questo personaggio mi sono piaciute tantissimo, infatti proprio tra tutti è il background che preferisco, quello di Sanji, con questo sacrificio da parte di treccine, e anche menzione d'onore a Caschettoline, adesso non so come si chiama il personaggio, anche se la sua caratterizzazione cambia molto velocemente, diventa subito, va subito dalla parte dei buoni, comunque dalla parte di Kobe, diventano subito amici, nonostante lui fosse un bastardone all'inizio, viziatissimo, però mi è comunque piaciuto come cambiamento, credo sia molto più importante nel futuro di One Piece, lo stesso Kobe, magari arriverà proprio ad essere uno dei villain Kobe, anche se non credo, però a inizio serie dice a Rufy un giorno saremo nemici, ma non è questo il giorno, credo però che arriverà quel giorno, e niente ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto, cosa ne pensate voi di questa serie, Netflix One Piece, fatemi sapere nei commenti, quelle richieste che ho fatto, a chi ha già visto la serie, non scrivete le richieste che non ho fatto, quindi non ditemi chi è il tizio di spalle alla fine, o non ditemi se Rufy è imparentato con il tizio del One Piece, queste cose non ditele, se dovesse capitare qualcuno, qualche intelligentone che scrive apposta quelle cose, bannato a vita dal canale, vi ricordo ancora una volta che in descrizione ci sono tutti i link dei miei social, tra Instagram, TikTok, X e Letterboxd, c'è anche il link di Pampling per avere delle t-shirt a tema nerd, cinema, serie tv, anime, manga, e robe varie, anche dipinti, e con il codice ilpensiero4 avrete come sempre un paio di calze gratis a scelta da inserire nel carrello che quindi, essendo gratis, vi arrivano a casa senza spendere nulla perché appunto è un regalo del sito e di questo mio codice ilpensiero4. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao! Ciao a tutti! Grazie a tutti.